Un saluto a Gianni Schicchi, il fotografo più popolare di Bologna, e via a parcheggiare il motorino. Questo pomeriggio è arrivato così all'istituto ortopedico Rizzoli Gianni Morandi, invitato da Ansabio, l'associazione nazionale spettacoli a beneficio dei bambini in ospedale, per tagliare il nastro inaugurale della nuova macchina del sorriso, donata grazie al progetto Enel nel cuore Onlus e alla collaborazione delle aziende Martelli e Morini Cars. Immancabili le fans dell'artista, subito placcato per selfie e strette di mano. Gianni Morandi ha visitato i bambini ospedalizzati del Rizzoli per sostenere la star therapy del dottor sorpresa, alias Dario Cirrone, che dal 1991 coinvolge le celebrità dello spettacolo e del mondo sportivo richieste a gran voce dai piccoli pazienti, anche se Morandi, dal 2010 testimonia di Ansabio, tenta di smentire questa verità con la sua consueta modestia. Ma no, a grande richiesta, questa è un'idea di Dario, anche per venire a salutare i genitori, i bambini, ma oggi c'è stata un'occasione bellissima perché ci sono stati dei benefattori che hanno regalato questo bellissimo pulmino al servizio dell'Ansabio. Dico bene, era molto bello essere qui a testimoniare un gesto del genere che viene poi da persone della città che sostengono il dottor sorriso. Adesso facciamo un giro in corsia molto volentieri, anche se non tutto quello che vedremo ci fa sorridere, ma ci fa sperare che si possa arrivare per questi bambini a migliorare la loro condizione, a guarire. Diciamo miglioriamo l'eccellenza della medicina perché il sorriso aiuta la dopamina e aiuta a affrontare meglio la medicina. Ecco, questa è una cosa che mi chiedo anche io, tu insisti su questa idea del sorriso perché ti rendi conto che ci sono dei buoni risultati. Assolutamente, accolgono meglio la medicina, è chiaro che ci vuole anche una buona medicina, ci vuole una bella eccellenza ospedaliera e questo aiuta moltissimo, assolutamente, si sono più che convinto e oggi lo dice anche la scienza a livello mondiale. Bene, allora grazie a tutti voi. Ciao! Ciao!